Sarebbero due i malviventi che questa mattina hanno dato l'assalto a un supermercato Conad di Cosenza. Nel corso della rapina, stando alle prime ricostruzioni, uno dei titolari del supermercato sarebbe stato ferito a una mano, mentre i ladri si davano alla fuga a bordo di un'automobile che per l'alta velocità si sarebbe ribaltata poco oltre all'altezza della rotonda che collega Viale Mancini a Via Girolamo Marafioti. Nonostante tutto i rapinatori sono riusciti ad allontanarsi a piedi sul posto e intervenuta la polizia che ha recuperato una parte dell'area furtiva. Un incendio di origine dolosa ha danneggiato ieri un supermercato di Catanzaro. Le fiamme seguite ad un'esplosione avversita dai residenti sarebbero divampate dal retro della struttura che ospita i macchinari, provocando denso fumo che ha invaso i reparti di vendita. Tempo fa, all'ingresso dello stesso esercizio, era stata ritrovata una bottiglia incendiaria. Ha telefonato ai parenti denunciando di essersi smarrito sulle montagne di località La Cina, nelle serre Vibonesi. Poi è scomparso nel nulla Bruno Tassone, di 52 anni, originario di Brognaturo. Avviate prontamente le ricerche dell'uomo che in un messaggio telefonico avrebbe riferito di trovarsi non lontano dal luogo in cui sono posizionate le pale eoliche. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia intorno alle 17.44 di ieri lungo la costa Calabra Meridionale. La scossa ha interessato entro 10 km dall'epicentro, sul Mar Ionio, i comuni di Africo, Bianco, Bovalino, Caraffa, Casignana e Sant'Agata del Bianco, tutti in provincia di Reggio. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine non si sarebbero registrati danni a persone o cose.